Primo maggio, piazza Dante, per ricordare che la nostra Costituzione non è da cambiare ma è da attuare. Il primo diritto previsto nella Costituzione repubblicana nata dalla resistenza al nazifascismo dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro a Napoli nel mezzogiorno ma in tutta Italia è un diritto per pochi. Molti non hanno lavoro, molti sono disoccupati, molti hanno perso il lavoro, non solo giovani ma anche quarantenni e cinquantenni. Molti ce l'hanno precario, molti hanno avuto il lavoro chiedendo un favore. Quindi lavoro non più come diritto ma come privilegio che ti concede chi ha il potere politico e anche economico. La mia lotta politica è per i diritti, allora innanzitutto per l'articolo 1 della Costituzione affinché si creano le condizioni, affinché il lavoro sia un diritto per tutti e non solo per alcuni. Salta, 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 ti fa stare bene. Salta, 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 salta per l'indignazione, perché la vera forza è nella partecipazione. Salta, 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 salta